Vai! E' un mio vicino di un avionio. E' un'attività di andare a sfruttare. Siamo sfruttando i pezzi. E' una cosa... padre di forza. Stai filmando? Si, sto filmando. Questo è una periodica di YouTube, eh? Eh? Eppala! Vediamo... Vediamo se si vedono dei pezzi se vengono fuori. Si scoppia adesso! Morti tutti! Guarda questo tempo andare sopra lì! Guarda, vieni qua! Guarda, vieni qua! Eh? Stavo guardando se... se insieme a Erika vengono fuori i pezzi. ... Bene! Salutiamo... 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 la E-3 di Milano. La E-3 di Milano. E la chiudiamo qui. ...